Matteo Cavatton, capogruppo Forza Italia in Consiglio Comunale a Padova, che ieri sera ha presentato una mozione sospensiva per quanto riguarda la fusione APS-Bus Italia. Il PD l'ha definita un dispetto politico, voi cosa rispondete? Sono dei bambinoni a cui si è rotto il giocattolo. Il giocattolo era una fusione assolutamente inaccettabile, così come era stata presentata, e soprattutto era un viatico elettorale per il facente funzioni di sindaco che l'ha presentata in Consiglio Comunale. C'è stata una condivisione di intenti tra la minoranza? La minoranza, che ha votato a favore della mozione sospensiva presentata da Forza Italia, ha semplicemente adottato un criterio da seguire in questi casi, ovvero sia il buonsenso. Mancava il piano industriale, mancavano le perizie asseverate che certificassero i valori delle due aziende, mancavano i patti parasociali a tutela dei lavoratori, mancava il compenso e il numero dei consiglieri di amministrazione della Costituenda Società. Mi pare il caso che qualora ci si proponga qualcosa di invotabile, non si ritenga di doverlo votare. Queste sono le motivazioni tecniche, poi ci sono anche motivazioni politiche. Noi siamo governati da un anno da un facente funzioni, che non è stato eletto dai cittadini padovani, è stato indicato dall'ex sindaco, che ha avuto una carriera molto breve e direi anche piuttosto opaca come ministro. Lo stesso Consiglio Comunale è al termine del suo mandato. In un momento in cui davvero la rappresentanza popolare in quest'Aula consigliare è affievolita, presentare un'operazione da decine di milioni di euro, che coinvolge centinaia di famiglie padovane, e tra l'altro presentarla al buio, ci è parso quantomeno grottesco. Ecco, per questa operazione che si ripresenterà probabilmente a giugno, qual è il vostro punto di vista? Il nostro punto di vista è la tutela di tutti i lavoratori dell'azienda APS Mobilità Spa. Qualora i lavoratori verranno seriamente tutelati dall'azione dell'amministrazione comunale, non vedo perché opporre uno sterile no alla proposta di una fusione, ma solo allora, solo con tutta la documentazione comprovante della situazione, solo con tutta la garanzia per le famiglie padovane.